I controlli stanno andando avanti, stanno procedendo con un massiccio di spiego di pattuglie sul territorio proprio per evitare che ci possano essere degli alleggerimenti in questo senso e che la popolazione possa comprendere messaggi sbagliati perché in questo momento tutte le disposizioni sono ancora attive e quindi la popolazione deve comprendere ancora di più quanto sia essenziale rimanere presso la propria abitazione ed evitare di andare in giro senza motivi di stretta urgenza sanitario di lavoro. Pertanto ancora di più in questo periodo i controlli vengono intensificati con presenza sulle grandi arterie stradali della giurisdizione in particolare in questo caso nei prezzi degli svincoli autostradali che quindi vengono presidiati per verificare l'accesso e l'uscita dai centri abitati. In tutti quanti i territori che vanno da Trabia, Termini Merese, così come in tutte le comunità montane che salgono verso le Madonie ci sono presidi di controlli continui nell'arco di tutta quanta la giornata soprattutto calibrati in quelle che sono le strade d'accesso ai centri abitati e di uscita così come per le vie che portano nelle zone periferiche che in questo periodo, così come nel periodo estivo sono maggiormente abitate quindi cerchiamo anche di verificare i possibili movimenti verso le case che vengono comunemente definite estive. In questi giorni a cavallo di varie festività sono stati maggiormente intensificati i controlli nelle vie d'accesso a quelle che sono zone residenziali o comunque periferiche rispetto ai centri abitati dove appunto ci sono tantissime ville che nel periodo pre-estivo e estivo vengono abitate da cittadini di altri comuni e quindi abbiamo dovuto intensificare questi controlli proprio per scongiurare la possibilità che i cittadini potessero allontanarsi dalle proprie residenze per recarsi in queste seconde case sempre verificando innanzitutto se c'è prima di tutto la necessità di andare a pulire giardini o campi di proprietà delle persone ma ricordando a tutti quanti che nei giorni festivi queste possibilità non sono concesse.